Amiche e amici di Fanno, a tutti voi appassionati della Lega Calcio 8, buonasera da Mattia Panini e benvenuti al Don Orione. Si chiude proprio questo giovedì sera il quadro della quinta giornata del campionato di Serie A e questa è Football 8 Roma Nord contro De Angelis. Parte Mazzesi col destro, la palla filtra, in qualche modo poi per Azzolo, ancora il numero due, ha spazio Roberto De Angelis, lascia lì per Zangheri. Si fa vedere poi, ora Zangheri, scusate, prova al sinistro Zangheri, Caterini, Mirante, il sinistro di Mirante, cercare il taglio di Michelangelo, di tacco, serve Sonnelli col sinistro, palla di poco a lato. Il pallone è scambiato con Aversano, la palla è in mezzo per Pensa bene, in mezzo a due, però al destro, Caterini, fa vedere Cioffi, perde il pallone per un attimo lui, poi recupera la sfera a Stornelli, possa dire il Football 8, il filtrante di Stornelli, per Mirante, a tu per tuo compagno, Mirante col sinistro, Piazzuolo mette in corner. Mirante, pensa all'apertura per Martino, che ha cambiato posizione, adesso al centrocampo, prova al destro, Martino, palla fuori. In segnimento di un compagno, poi prova per Pantaloni, che gira con il destro, la palla per Stornelli, che prova a metterla sul secondo palo. Linca, poi Cioffi, prova a liberarsi del numero 5, si accentra al numero 9, bravo, però Mazzesi in copertura, poi Zangheri col destro, Caterini in qualche modo. Rientra anche Michelangelo, va Stornelli col destro, pallone fuori, a cercare i Pantaloni, che la mette giù col petto. Pensa alla botta Pantaloni, la palla filtra, poi per solo in due tempi. Michelangelo, la palla avanti per Cioffi, Cioffi tenta dentro per Zangheri, la palla che supera il portiere, poi Pantaloni mette ordine in difesa, il pallone. Cioffi, pensa al destro Cioffi, la palla messa dentro, e il vantaggio del De Angelis, passano gli ospiti con Cioffi, e il gol dell'1-0 del De Angelis. Tutto pronto, fischia l'arbitro, parte Mazzesi, col destro Mazzesi la palla, filtra. Pantaloni con le mani, va da Michelangelo, che controlla forse con un braccio, non fischia l'arbitro per oggi, a Cinti libera l'era di rigore, ma arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il De Angelis sbanca al Donorione, finisce 1-0 per i uomini di Roberto De Angelis, che conquistano tre punti importantissimi, e volano a quota 8, superando proprio il football 8, che rimane a 7. Io la riassumerei proprio con le dure leggi del calcio, che sono tante, che non si vince con le figurine, che avevamo incontrato questa squadra martedì e quindi pensavamo che era facile, che giochiamo in casa, che comunque quando non segni poi lo prendi, tutte le banalità del calcio, le leggi, che poi sono però le cose vere, come i proverbi. Però loro sono stati bravi, molto più bravi dell'altra partita, e quindi l'hanno gestita bene, hanno trovato il gol, noi no, e quindi poi dopo ci siamo nervositi, non ci è venuto quasi niente, però è un momento difficile perché volevamo arrivare a agganciare la testa. E qui, allora a questo punto è qui che dobbiamo vedere veramente il gruppo, la squadra, i giocatori, perché è dopo le sconfitte che bisogna rialzarsi. Ci sono tre punti, è la seconda partita di seguito che vinciamo, abbiamo fatto esperienza con la finale di Prelega, abbiamo giocato contro la stessa squadra che abbiamo perso, e con questa esperienza siamo riusciti oggi a capitalizzare questi bei tre punti che per noi sono veramente un ottimo risultato. Non è che ci sono le squadre di cucinetto, e quindi ogni partita deve risultare, come stasera noi siamo sudati, è una bella squadra, ma siamo riusciti ugualmente alla fine a vincere. Abbiamo rinunciato un pochino al gioco, per contenere di questa squadra che è una bellissima squadra, infatti non abbiamo giocato come sappiamo giocare, noi adesso ci vedrete qualche volta a giocare veramente a calcio, a otto, come si gioca veramente. Diciamo che stavistoria siamo contentissimi, intanto ringrazio tutti i ragazzi perché stasera veramente mi hanno dato una gioia, vado a casa molto felice, questo è sicuro, e diciamo di questa stagione abbiamo già rimpianto di qualche puntarello perso o male, però questa è tutta esperienza, è il primo anno in Serie A, un po' di esperienza serve sempre, però sono sicurissimo di quello che facciamo, io dico sempre che siamo una squadra che darà fastidio a parecchie squadre.